C'è un'alata! Oggi è un problema! Lo faccio! Ma chi sono quelli? C'è un'alata nello spazio! Ma chi ci sono? Siamo le l'alata! Siamo le l'alata della Terra! Noi siamo le l'alata! Ma invece siamo noi le l'alata! No, 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 no! Siamo noi le l'alata! No, no, no! Il colore è bella challenge! Ok, facciamo la challenge! Ok, facciamo la challenge! Prova del ballo! Vediamo chi ballerà meglio! Sei l'alata della Terra o l'alata dello spazio? La prima challenge sarà di ballo! Eeeh! Eeeh! Grazie! Eeeh! 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 Dalla terra hanno portato del cibo fantastico per questi nostri marziani Lazza Hanno portato così c'è cerotto scocciato Un dente cariato E un... Cotton fioc sporco Una risca Un formaggio Un formaggio Aspetta che non c'è ancora la challenge Un formaggio Una cacca Un occhio E un formaggio Allora, inizia la challenge Avete... Un cervello Allora inizia la challenge Avrete il coraggio di mangiare queste cose Ma tu stai già mangiando Buoni, buoni Buonissimi Avete il coraggio della cacca Avete il coraggio Pannolino Cacca Avete il coraggio della cacca Buonissimi Ma la mia amica Questo challenge è la primafinden relativamente Buono Pieno Challenge numero due Mangiarle immondizia No, no, no e noi facciamo un'unica challenge persa challenge delle flessioni perché non vede la fine la vinciamo a noi chi farà meglio le flessioni? il lago della terra o il lago dello spazio? o il lago dello spazio? vigni hai visto? no, che bello no la challenge è stata la facilissima ma facilissimo no, due, due challenge vinta alla grande avete vinto ragazzi l'anza l'anza della terra vedete lì vittoria 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 mamma 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 se questo l'hai il piatto lasciate un like scrivetelo Scrivetevi al nostro canale e boh! Ciao da Lazio! Ciao! Ah, sono dei baci scambiati! Scrivetevi al nostro canale!